La nostra paura più grande non è di essere inadeguati La nostra paura più grande è di essere forti oltre ogni misura Adesso mi trova d'accordo Me ne avevano parlato Vai lì, ascolta me Mi ringrazierai, mi disse All'inizio sembra tutto un po' strano Ma poco per volta ho iniziato a capire cosa volevo veramente Se immagino la mia vita come un foglio di carta Posso immaginare di piegarlo a metà Posso vederne una metà e una metà è quello che ho fatto finora L'altra metà è come quello che farò e sarà diverso Sarà migliore, sarà bello Io sono assolutamente convinto che a volte basti anche solo una frase Una parola, un concetto per cambiare letteralmente la vita di una persona Perché tu stai andando in una direzione Sposti la direzione di solo un grado Continui a camminare e mesi dopo ti trovi dall'altra parte della terra Sposti la direzione di solo un closely if you don't really choose me Sposti la direzione di solo un grado Sposti la direzione di solo un grado No, lei è come un ascolta Sposti la direzione di solo un grado fondamentale. Adesso so che io vedo, sento, provo e so che io sono nella direzione della mia vera libertà, verso la mia vera libertà. Posso conoscere la domanda guida che mi ha condotto fino ad ora. Posso scegliere di cambiarla. Posso scegliere come vivere. Voglio, dunque posso. Si accendono le luci. Comincia una nuova vita. Leadership Seminar. Benvenuti ai nuovi leader.